Il fascino della città vecchia di Taranto, beh arriva il tramonto e si accendono le luci, quelle luci calde, gialle, che fanno suggestione, che creano un'atmosfera, che creano un'emozione in una sola parola. È bello passeggiare qui in Via Duomo e vedere quante occasioni ci potrebbero essere proprio come creazione di attività commerciali, sfruttando i locali, le botteghe, creando un'economia come si fa in tante città italiane. Invece abbiamo avuto un'amministrazione melucci, ceca e ottusa. Io parlo di ottusità politica, ovviamente, nel senso che qui per esempio ci sono due locali, uno alla mia destra e un altro alla mia sinistra, che sono di proprietà comunale. Bene, questi locali non dovevano essere usati, valorizzati, impiegati per creare attività, per creare promozione del territorio, si potevano destinare a mille usi. Si può parlare di tutto circa la destinazione che essi potevano e possono avere. Invece no. Questi due locali, da anni tristemente chiusi, abbandonati, con un catenaccio che fa capire quanto l'amministrazione melucci ha avuto in scarsa considerazione la cultura. Ebbe, amministrazione melucci musillo, perché anche musillo che ora fa il candidato sindaco, ha amministrato con melucci ed è responsabile di questo stato di assoluto degrado, di assoluta decozione. Un altro locale alla mia sinistra di proprietà comunale tristemente abbandonato. All'interno di questo stabile, quindi superando, aprendo questo portone, vedete qui ci sono altri locali, mi dicono almeno un altro locale di proprietà comunale, anch'esso chiuso, abbandonato. In questo modo si vuole fare cultura? In questo modo si vuole fare turismo? Abbiamo avuto un assessore, l'assessore Marti, che ha lasciato una impronta davvero invisibile, impercettibile, nulla circa l'apporto culturale. Quale cultura hai fatto a Taranto Marti? Quale cultura? Cultura significa valorizzare il borgo antico, significa sfruttare ogni risorsa, significa fare economia attraverso le risorse della città vecchia. Quindi sfruttare i locali, quindi valorizzarla. Ma cosa hai fatto in tutti questi anni? Ma cittadini, vi volete fare un giro nella città vecchia? Volete vedere come sta crollando a pezzi? Volete vedere quanti locali comunali chiusi? Quante opportunità sottratte ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, alle future generazioni, agli studenti universitari? Un'amministrazione del nulla. Questo avete fatto, caro Melucci, caro Musillo e anche te, Marti, assessore alla cultura e vice sindaco, il nulla assoluto, l'amministrazione del nulla, che ha saputo solo tarpare le ali alla crescita, alla crescita sì, alla riscoperta delle nostre tradizioni, perché le nostre tradizioni sono qui, in città vecchia e dobbiamo riscoprirle. Mi sono candidato a sindaco per riportare alla luce questi tesori, queste ricchezze, coinvolgendo la cittadinanza, perché qui c'è tanta gente, gente semplice, gente che magari non ha studiato, ma gente che ha il cuore, ha quei valori che solo il nostro Sud, che solo la nostra Taranto sa dare, quel senso di solidarietà. Vi hanno ferito, hanno cercato di spezzarvi le ali della speranza. Cercheremo di aggiustarle, cercheremo di ripararle, cercheremo di tornare a volare insieme e non lo dico perché sono un piazzista, un venditore di piazza, no, perché ci sono 21 anni della mia vita da giornalista, 21 anni di attività giornalistica in cui ho consumato queste strade, ho consumato le sole delle mie scarpe per denunciare il degrado, per denunciare il nulla politico. Mi sono stancato dopo 21 anni di dire e di ridire sempre le stesse cose. Ora voglio amministrare questa città per davvero capovolgerla con un calzino. Ce la faremo insieme, mettiamocela tutta.